Poi c'è la scuola. Cosa è successo? Lo possiamo chiedere direttamente alla ministra di istruzione Lucia Azzolina, che ringrazio per aver accolto il nostro invito, che era segreto, però ho visto che Matteo Orfini del PD ha scritto su Facebook Leggo che la ministra Azzolina questa sera andrà da Mentana. Le suggerirei sommessamente di passare anche al Senato, perché il presunto accordo è ancora lontano dall'essere raggiunto, ma proprio molto lontano. È lontano o è stato raggiunto l'accordo? L'accordo è stato raggiunto ieri sera, il concorso si fa, si fa in un'ottica di merito, si fa in un'ottica di qualità dell'istruzione, che è un desiderio che tutte le famiglie italiane hanno, perché chiunque ha un figlio a scuola desidera che si abbia l'istruzione migliore possibile. Ricordo che Calamandrei diceva che la vera democrazia si ha quando il diritto all'istruzione viene dato a tutti. La scuola deve essere ascensore sociale, affinché possa essere ascensore sociale deve avere gli insegnanti più preparati possibili. Un concorso per 80.000 persone è molto importante. Cioè è un concorso che fa vincere il posto fisso a 80.000 attualmente precari? Esatto, è un concorso che permetterà a chi lo vincerà di avere un contratto a tempo indeterminato. Avere un contratto a tempo indeterminato, lo dico pensando a me, quando io ho stipulato il contratto a tempo indeterminato, la prima cosa che ho fatto è stata comprare casa. Quindi dai una solidità a questi precari e garantisci la qualità della scuola italiana. E anche l'edilizia si garantisce. E senta però, perché Orfini invece dice queste parole? Perché l'altra linea è non fare il concorso, ma praticamente assumere per titoli già pregressi? Ieri sera abbiamo fatto un incontro con il Presidente del Consiglio e tutte le forze politiche, anche il PD, hanno espresso soddisfazione per l'incontro che c'è stato. L'accordo c'è, a me basta questo, vedere una maggioranza che si è ricompattata sul concetto di merito e di qualità dell'istruzione. Ma quindi Orfini che è molto lontano l'accordo? Non lo sappiamo, non voglio investigare, ho capito che non le scucirò niente. Comunque per lei vale questa intesa. Il concorso sarà in autunno e quindi però a settembre questi insegnanti entrano nelle classi ancora da precari. Il concorso verrà fatto dopo l'estate, aggiorneremo le graduatorie provinciali, consideri che la platea ha l'incirca di un milione di persone e i precari che vinceranno il concorso potranno essere assunti, quelli del 2020-2021, con retrodatazione giuridica del 2020-2021. Quindi non cambia sostanzialmente nulla, eccetto il fatto che ci sarà una prova scritta che garantirà la qualità della nostra istruzione. Senta, in realtà molti milioni di persone sono interessate a sentirla su qualcos'altro perché stanno per arrivare gli esami di maturità e gli esami di terza media. Gli esami di maturità, ormai l'abbiamo capito, gli studenti vanno lì 5 al giorno, una cosa di questo genere. Stanno distanziatissimi, non c'è bisogno di una mascherina se stanno a molti metri di distanza. Cosa si può aggiungere? Aggiungiamo, tranquillizziamo le famiglie, è un esame che verrà fatto in totale sicurezza, abbiamo un documento del Comitato Tecnico Scientifico del Ministero della Salute, un protocollo stipulato con le organizzazioni sociali. L'esame sarà orale, quindi semplificato, vista la situazione del coronavirus, e i nostri studenti porteranno un elaborato sulle materie di indirizzo, faranno anche, io spero, parleranno anche del coronavirus se necessario, nella parte che riguarda cittadinanza e costituzione, mi piacerebbe tanto che i nostri insegnanti chiedessero ai nostri studenti, che sono cittadini 18 anni, 19 anni, come hanno vissuto questo periodo. L'esame invece della terza media, me la faccio chiamare così, anche se è scuola secondaria di primo grado, sarà un elaborato, discusso online, poi ci sarà lo scrutinio, però esami fatti in sicurezza e semplificazione dovuta al momento difficile che i nostri studenti hanno vissuto. Terza media tutti promossi, nell'esame di secondaria. Guardi, gli studenti hanno lavorato tanto, tanto, in una situazione complessa, ad alcuni abbiamo fatto arrivare tablet e pc che non avevano, io penso che la scuola non debba lasciare indietro nessuno, diritto all'istruzione è sancito dalla Costituzione, quindi sono certa che faranno bene. Senta, tutti noi guardiamo al passato quando si parla di scuola, tutti quanti, e era importante le lezioni, i compi, però era importante la socializzazione. Cioè questa istanza, per chi ci è passato, sembra fondamentale l'aria che si respira degli adolescenti. A settembre si torna in classe, si torna a scuola, si torna alle assemblee, si torna in cortile, tutte queste cose? A settembre si torna in classe, stiamo lavorando tutti per quell'obiettivo, per risentire di nuovo la campanella, si torna tra i banchi, così come giusto che sia, così come vogliono le famiglie, il ministro, gli studenti, gli insegnanti, tutti quanti. L'importante è tornare in classe in condizioni di sicurezza. E per questo, già questa settimana, il Comitato Tecnico Scientifico del Ministero della Salute risponderà a tutta una serie di domande che noi come Ministero dell'Istruzione abbiamo posto. Da quelle risposte noi lavoreremo, e lo stiamo già facendo chiaramente con il nostro Comitato Tecnico del Ministero dell'Istruzione, con tutte le proposte che, devo dirle, stanno arrivando da tutta Italia, da dirigenti scolastici, docenti, che ringrazio per tutto il lavoro. Però poi bisogna scegliere. Assolutamente sì. Non è un'assemblea questa. Però la scuola riguarda tutti quanti, quindi ascoltare bisogna ascoltare tutti quanti, poi la responsabilità politica è mia e dell'intero governo per riportare gli studenti in classe a settembre. Pochi secondi. Ho visto che c'è stato quello che volgarmente si chiama shitstorm anche nei suoi confronti. Li hanno tirato dietro dai social di tutto, comprese ovviamente, essendo una donna, anche le accuse sessiste, le più sgradevoli. Cioè, com'è vivere da quell'altra parte abbarricata la situazione? È brutto, sai perché? È mortificante perché questi insulti sessisti sono arrivati da educatori. Allora, io faccio le lotte contro il cyberbullismo, no? Il cyberbullismo. Come fa un insegnante che scrive quelle cose, che etichetta una donna per il loro assetto rosso, o, non le dico cosa hanno scritto, educare poi gli studenti a non essere cyberbulli? Non è un educatore chi agisce così. E questo fa male a un ministro dell'istruzione. Fa male a tutti, guardi, io lo assicuro. Grazie, grazie ministra Azzolina, speriamo bene per tutti. Grazie davvero. Grazie.